Ciao Giovanni, questa presentazione l'avevo preparata sabato mattina per confrontarmi con te e di conseguenza svilupparla insieme a te. Dato che poi non ci sono stati presupposti per farlo, ho deciso comunque di inviartela e darti quindi un vantaggio imprenditoriale. Sono sicuro che saprà darne ogni vantaggio possibile. In questo breve filmato espongo, come avrei gestito in maniera molto pratica, concreta ed efficace, fin da subito lo sviluppo dell'area Amazon, con i relativi risultati e, come avremo potuto successivamente, espanderlo a tutto l'e-commerce. Il piano di azione si compone di tre fasi, con le relative tempistiche. La prima fase, acquisizione ed analisi dati. La seconda fase, sviluppo e potenziamento piattaforma Amazon. E la terza fase, progetto biscottini 2.0. Come si dice, un obiettivo è un sogno che ha una scadenza. Ma andiamo nel dettaglio. Se vogliamo affilare la lama del nostro cortello per essere chirurgici, dobbiamo per forza conoscere nel dettaglio i seguenti tre aspetti fondamentali. 1. I mercati in cui vogliamo operare. Vendere in Spagna è diverso che fare in Germania. 2. Cosa fa la concorrenza per batterla e diventare l'azienda leader. 3. I nostri dati storici. L'esperienza insegna sempre. Dai dati ufficiali Amazon sappiamo che i mercati più importanti sono quello tedesco, inglese e francese. Ognuno dei quali è oltre dieci volte il mercato italiano e spagnolo. Stiamo parlando, cioè senza contare i mercati della Spagna, di un più 300%, ovvero di triplicare il potenziale soltanto entrando nella maniera più efficace nei mercati di questi paesi. Già lo stiamo facendo, ma veramente a livello embrionale. Amazon mette a disposizione il servizio logistica e il Amazon Services Europe per poter espandere l'attività a livello europeo in maniera facile. Fin da subito, inoltre, possiamo procedere a mettere in vendita su tutta la piattaforma europea i prodotti che dal nostro storico di vendita e dai dati che il tutor di Amazon ci mette a disposizione della concorrenza risultano più cliccati. Per quali motivi è importante conoscere la concorrenza? Semplicemente per poterla battere. E lo possiamo fare su tre livelli. Uno, dare maggiore qualità, concorrenza sul valore. Due, farlo almeno, quindi concorrenza sul prezzo. Tre, farlo più velocemente, concorrenza sul tempo di consegna. Ognuna di queste tre leve di acquisto ha la sua importanza e saperle muovere fa la differenza. Fortunatamente, nei report del tutor di Amazon, possiamo estrapolare una quantità di dati che, semplicemente analizzati, indicano chiaramente quale leve usare e come. Esempio pratico. Se un tavolo che ho in vendita, vedo che è stato cliccato molte volte ma mai acquistato, posso fare un confronto con i tavoli della concorrenza e posso vedere se ha un problema di percezione del valore e quindi agire sulla descrizione, oppure un problema di prezzo o semplicemente di tempi di consegna, in quanto un concorrente, aderendo al servizio Prime, può eliminare le spese di consegna o addirittura fare ricevere il tavolo in un'ora. In possesso di tali dati, posso decidere quindi quale leva di acquisto muovere, oppure posso anche decidere di toglierlo, esempio, dal mercato tedesco, in quanto per me non è un rinunerativo, e invece spingerlo con promozioni su quello inglese. Sulla base dei risultati storici di ieri, fare azioni oggi che ci consentano di essere già nel futuro. Fortunatamente Amazon è un archivio documentatissimo, nel settore Tutor sotto la voce Report, possiamo estrapolare ogni tipo di dato, dello storico delle nostre vendite e dei prodotti della concorrenza, e lavorato insieme alle valutazioni precedenti, consente di ottimizzare il processo di vendita. Tali processo avrà la durata di una settimana, a termine della quale avremo la checklist e le cose concrete da fare sulla piattaforma Amazon, per ottenere entro la fine dell'anno il raddoppio del fatturato. Ma ecco le 7 viti da girare per ottenere una macchina da guerra. Prima vite. Account Amazon Services Europe. Per avere un unico accesso all'intero mercato europeo. Iscrizione immediata sul canale YouTube omologo Amazon Services Europe, per vedere video tutorial e capire vantaggi reali derivanti che avere tale tipo di account genera immediatamente. Seconda vite. Logistica di Amazon. È un servizio esclusivo che consente di poter espandere il business in maniera incredibile e non necessariamente fermarsi alla sola Europa. L'81% dei venditori hanno visto un incremento delle proprie vendite dopo aver aderito a logistica di Amazon, motivo per cui la slide seguente, dedicata esclusivamente a questo aspetto. Terza vite. Amazon Prime. Due motivi per esserci. Uno. Offre l'accesso alla clientela selezionata di Amazon. Due. Offre un vantaggio competitivo nei confronti della concorrenza. Quasi sleale. Zero spese di spedizione. Oppure consegna entro un'ora. Magari ad oggi sono sfumate delle vendite proprio perché qualcuno non faceva pagare le spese di spedizione. Proprio per questo a parità di prezzo risultava prima nella pagina di visualizzazione. Ho detto due motivi, ma in realtà c'è anche un terzo, non meno importante. Entrare a far parte di promozioni internazionali, come ad esempio quella che ci sarà il 12 luglio, il famoso Prime Day. Ci siamo noi? Da quale parte però? Quarta vita da girare. Le sponsorizzazioni. Amazon offre la possibilità di sponsorizzare i prodotti che uno desidera, per fare in modo che risultino in evidenza già nella home page. Quinta vita da sistemare immediatamente è l'iscrizione a webinar gratuiti tenuti direttamente da Amazon e scaricare tutto il materiale didattico e formativo a disposizione su tale piattaforma, al link che ho scritto sopra. Sesta vita. C'è chi passa la vita di venditore su Amazon rincorrendo la buy box e chi ce l'ha e non ne sfrutta il potenziale. Inutile avere un Ferrari per andare a 50 all'ora. Leva questo cazzo di frena a mano. Settima vita. Le affiliazioni. Su questo punto dovremo confrontarci in maniera più importante, in quanto è la possibilità per chiunque di vendere su Amazon merce biscottini. Un po' come dare la merce a vari negozianti, i quali invece di essere pagati da biscottini sul venduto vengono pagati da Amazon. Qui si apre veramente un mondo di business da valutare, ma senza dubbio ha l'altissimo potenziale di sviluppo. Un business nel business. Come appena detto, il servizio logistico di Amazon richiede un approfondimento. I 5 punti chiavi per il successo, ovvero Lasciati guidare dai numeri Ottimizza la qualità delle offerte e dei prezzi Gestici il tuo inventario Riduci al minimo la probabilità di errori Ottimizza, ottimizza, ottimizza In parte ne abbiamo già parlato, ma sono comunque affrontati in questo breve filmato ufficiale di Amazon, di 2 minuti. Se stai cercando un metodo alternativo per raggiungere i tuoi clienti, sia che si trovino nella tua città o dall'altra parte del mondo, il servizio di vendita su Amazon è la soluzione che fa per te. Amazon è uno dei più grandi ed innovativi mercati online al mondo. Associando la tua attività ad un marchio di fama internazionale come Amazon, avrai accesso ad un flusso continuo di nuovi clienti, grazie a un vaccino che conta milioni di utenti in tutto il mondo. Con un unico account di venditore europeo puoi raggiungere decine di milioni di potenziali nuovi clienti sui 5 marketplace europei di Amazon situati in Germania, Francia, Italia, Regno Unito e Spagna. È semplicissimo, dallo stesso account venditore puoi tenere traccia di tutta la tua attività di vendita su tutti i mercati europei di Amazon. I venditori di Amazon possono usufruire di numerosi vantaggi. Unisciti agli oltre 2 milioni di venditori attivi che ogni anno generano un volume d'affari di diversi miliardi di euro su Amazon. Nel momento in cui effettui le tue vendite su Amazon, disporrai della sicurezza e della protezione da frodi riservata per te e di tuoi clienti. Per migliorare e per tenere sotto controllo la tua attività, potrai utilizzare i potenti strumenti di monitoraggio. In qualità di venditore su Amazon, avrai la possibilità di far arrivare i prodotti ai tuoi clienti in modo più facile e rapido, grazie al nostro programma Logistica di Amazon, che ti aiuta ad espandere la tua attività online, a livello nazionale ed internazionale, grazie alle straordinarie competenze e risorse di gestione di Amazon. Non dovrai far altro che inviare i tuoi prodotti ad Amazon, che li stoccherai in uno dei tuoi centri logistici, estremamente sicuri e all'avanguardia, pronti per essere spediti ai tuoi clienti non appena ricevuto l'ordine. Logistica di Amazon ti garantisce un grande vantaggio competitivo, in quanto i prodotti che vendi sui marketplace europei di Amazon beneficiano del servizio Amazon Prime, o, nella maggior parte dei casi, della spedizione gratuita. Espandere la tua attività a livello internazionale è facilissimo con la rete logistica europea di Amazon, che ti permette infatti di spedire gli ordini provenienti dal sito di Amazon e da altri canali di vendita da un unico inventario locale, ai tuoi clienti, in tutti i stati dell'Unione Europea. Se non ti sei ancora registrato, iscriviti subito per non perdere tutti i vantaggi che solo Marketplace Amazon può offrirti. Grazie a strumenti di vendita professionali, a milioni di clienti ed il marchio di fama internazionale Amazon, non c'è mai stato un momento migliore di questo per vedere crescere la tua attività su Amazon. Una volta ottimizzato il mondo Amazon e raggiunto l'obiettivo del 100% entro fine anno, prendiamo coscienza che il mondo e-commerce non si ferma certo qui, ma è ben più ampio e nuove tecniche, nuovi strumenti, nuovi social, nuove piattaforme stanno sempre più prendendo campo. Quindi, per raggiungere il prossimo livello di decubblicare il fatturato entro fine 2017, è necessario ottimizzare quelle situazioni in cui siamo già presenti e intraprenderne di nuove. Sicuramente creare una piattaforma e-commerce più dinamica e interattiva, magari binata anche da app per smartphone, oppure sfruttando app già esistenti come Pinterest, oppure social come Instagram o Snapchat. Di come fare business con WhatsApp? Vediamo parlarne? Ebbe ha un enorme potenziale, che ancora non viene sfruttato, è un bacione di utenza che spesso non è sovrapponibile con quello di Amazon, quindi abbiamo enormi praterie verdi davanti. Alibaba è l'Amazon per l'Oriente, per entrare nel norme mercato asiatico è la porta principale. Su Facebook ci sono 30 milioni di persone al giorno. Con innovativi sistemi come il marketing informativo, che sfrutta le Facebook Ads, è possibile selezionare il target ottimale e raggiungere quante persone vogliamo. Dobbiamo solo decidere quante persone al giorno vogliamo che entrino in contatto con noi. Senza dubbio da utilizzare. Bene, sono sicuro di averti dato degli spunti di riflessione, ma ancora di più di averti indicato delle soluzioni e le strade a percorrere per arrivare al tuo sondo. Invece di scaricare un TIRN, di scaricarne 10. Ovviamente sono tracce che ho lavorato in una mattinata, ma danno bisogno di essere ancora più strutturate ed integrate. Hai la lungimiranza e l'intuito degli imprenditori di successo. Hai un'azienda con un potenziale enorme e un progetto stimolante. Oggi però non è pensabile di andare in guerra con la sola spada, anche se sia il migliore dei samurai. E poi immagini che conoscerai la principale regola dell'economia. Pesce grosso mangia? Mangia? Ti do una notizia, è ufficiale. Ormai la regola è pesce veloce mangia pesce lento. O se preferisci, detto con le mie parole, mentre te ci stai pensando, qualcuno lo sta realizzando. Un saluto, Michele. Ciao.